SONO IO, IL PRINCIPE ALI PRINCIPE ALIA BABUA NO NO, VI PREGO, VI PREGO PRINCIPESSA, DATEMI UNA PUSA LASSATEMI IN FAZE BUONO, BUONO MICIETTO SE LA CAVA BENE IL NOSTRO CICISBEO DAI, STA BUONO LA VOI SMETTERE? GIUSTA, FORZA Ehm, NO, NO AL MERCATO PRINCIPESSA IO CI MANDO I MIEI SERVITORI AL MERCATO ANZI, HO PERFINO DEI SERVITORI CHE VANO AL MERCATO PER I MIEI SERVITORI QUINDI NON POTETE AVERMI INCONTRATO LI Ora basta parlare di te Casanova, parla di lei Che è intelligente, spiritosa, i capelli, gli occhi, quello che vuoi, ma dati da fare Ehm, principessa Jasmine, voi siete... È meravigliosa, strettosa, affascinante, coscienziosa, puntuale Puntuale Oh, pardon Ehm, cioè, bellissima Buona la seconda Sì Lo so Ehm, certo, è naturale, un principe come me Allarme rosso Mayday, mayday Aspetta Che cosa? Fermala, fermala Vuoi che la funga? Smamma Ok, agli ordini, ma ricordati Sì, d'accordo Ehm, è giusto Ah, è vero, tu non sei soltanto un premio da vincere Dovresti essere libera di scegliere da sola Hai ragione, sparisi Cosa? Come hai detto? È un tappeto magico Non... Non ti andrebbe di fare un giro con me Potremmo uscire dal palazzo Vedere il mondo Certo, ti fidi di me Ti fidi di me Ti fidi di me